I carabinieri forestali hanno denunciato un cittadino svizzero di 62 anni, titolare di un'impresa immobiliare elvetica, per abuso edilizio e paesaggistico. I militari, in collaborazione con l'ufficio Vigilanza Edilizia del Comune, hanno scoperto lavori non autorizzati nella zona di Fondotoce. Le opere hanno finalizzato a realizzare strutture recettive. I lavori abusivi comprendono, tra le altre cose, la posa di due case prefabbricate in legno, l'ampliamento di un edificio preesistente con la realizzazione di due nuove camere da letto, balconi e terrazzi, la costruzione di un ponte di collegamento tra edifici, la modifica delle altezze, la trasformazione di spazi da legnaie in aree residenziali e la realizzazione di una strada. Le opere di notevole impatto paesaggistico ed edilizio erano state commissionate ed eseguite da un'impresa immobiliare svizzera, che ha acquistato vasti terreni nel territorio di Verbagna. Per tutti gli interventi, che ricadono in un'area paesaggisticamente vincolata, non erano state chieste autorizzazioni né al comune di Verbagna né alla soprintendenza di Novara. Con ordinanza comunale è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi.